Il treno suburbano S13-24383 di Trenord, proveniente da Milano a Bovisa, è diretto a Pavia, delle ore 0.05, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Villa Maggiore, Certoso di Pavia. Il treno regionale, 23-49, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Voghera, delle ore 0.49, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Il treno regionale, 23-09, di Trenord, proveniente da Milano Centrale, è diretto a Pavia, delle ore 0.49, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Villa Maggiore, Certoso di Pavia. Il treno suburbano S13-24314, di Trenord, proveniente da Pavia, è diretto a Milano Bovisa, delle ore 05.56, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma in tutte le stazioni. Attenzione! Allontanarsi!